Salve a tutti e bentornati a questo nuovo 2 Minutes Ready. Oggi parliamo di Achille Lauro e della sua Uh La La La, in collaborazione con Gemitides. La produzione è di Boss Domes e oggi noi ci interesseremo della melodia principale, ossia quella che si sente nell'intro. Come sempre, prima, ascoltiamo. Ok, allora, fa così. Le note sono Do basso, Do, Sol, Mi bemolle, Sol basso, Sol, Si bemolle, Re, La bemolle, Do, La bemolle, Mi bemolle, Fa, Fa, La bemolle, Do. Vi consiglio di usare due mani, ovviamente, per suonare questa melodia, ma se siete abbastanza bravi, potete anche suonarla con una sola. Ma ora passiamo ai suoni. Per quanto riguarda il suono, è chiaramente un suono campanellinoso di quelli che si sentono nella trappa oggigiorno praticamente ovunque. Andiamo quindi ad aprire la nostra libreria di campanelle e cerchiamo un po'. Questa direi un po' eccessiva. Questa potrebbe fare un buon sottofondo. Inoltre, aggiungo subito un fantastico xilofono. Questo è sempre quell'elemento ritmico in più che non fa mai male. Poi andiamo a cercare uno dei nostri suoni principali. Ecco tipo. Però aggiungerei un altro di rinforzo. Però portiamo questo suono su di un'ottava. Ok. Accendiamo tutti i nostri suoni, che sono quattro. Aggiungiamo i nostri 200 kg di riverbero. Il primo suono è quello di sottofondo, quindi va tenuto un pochino basso. Il secondo, invece, è che l'elemento ritmico sia lo xilofono. Magari un pochino più forte. E infine gli ultimi due suoni, che sono i nostri suoni principali. Alziamo tutto un po' di volume. E viene a fare così. Bene, direi che ci siamo avvicinati abbastanza. Grazie mille per aver seguito questo Ciu Minutes Ready. Io vi ricordo, come sempre, di consigliarmi un nuovo brano nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. A presto! Sous-titrage Société Radio-Canada Tira le palline bianche ma in buca le mazze si come un golfista Se queste strisce lo portano all'ora